Un incidente si è verificato qui a Castellazzo de Barzi, frazione di Robecco sul Naviglio. Il motociclista stava procedendo lungo via per Cascina Tangola verso Cassinette e si è scontrato con un'auto che sopraggiungeva dalla parte opposta. Pare che la visibilità in questi punti sia alquanto ostacolata dalla presenza dell'erba alta ai lati della carreggiata. Guardi quella macchina là, solo che è un pochino, in un momento non vede neanche.